Buongiorno ragazzi sono SuperSimo64 oggi qui con... Domenico dei Gamer salve a tutti E benvenuti a quello che probabilmente sarà l'episodio finale del nostro Versus New Super Mario Bros Io... a me mancano cos'è? 1, 2, 3, 4, 6 livelli? E a Domenico ne mancano... A me mancano un intero mondo diciamo, tutto il mondo 8 Ma comunque diciamo che è ancora tempo per recuperare perché io non sono molto bravo E poi non so se ha fatto pratica Sì, ho fatto pratica sul primo livello e sono morto sempre quando l'ho fatto Però... Vado piano forse... Ok Non mi ricordo assolutamente niente di questi ultimi livelli perché talmente tanto tempo che... Ok Oh no! Wow! Sono morto Ok... Ok... No... No... Ok... 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 Perfetto... Sarebbe bello se tipo affrontiamo la battaglia finale di Bowser nello stesso esatto momento Ma io stavo pensando... Stavo pensando magari... Se magari recupero un po' Che possiamo fare un'altra parte... Che possiamo fare un'altra parte... La parte 8 dedicata solamente al... Al boss finale... Eh sì sarebbe... E però poi magari rimane troppo troppo corta... Però boh... Non lo so... Se riesce a recuperare poi ci pensiamo... Ok... Ok... Oh... Ok... Ok... Dammi fungo... Ok... Non ce la farò mai... Ok... Monita stella... Sì... Fantastico... Cosa... Cosa è successo? No... Sono morto alla fine... Non ci sono nemmeno checkpoint... Sono saltato... Non so come... Leggermente più in alto... Ho toccato un bue e sono morto... Scusa se ti è interrotto... Ma sto per fare game over... Ok... Una vita quindi... Meno male che mi sono accorto... Vai... Vai... No... Non ho preso la monita stella... Ma dai... Ma è finito il livello? No... Ok... Vabbè almeno... Vabbè... Sono morto... Fantastico... Tanto sono al checkpoint... Uh... Che bello... Il blocco volante... Colorose che dà cose random... Yay... Il mega fungo... Tra tutto quello che mi... Mi ha cadato il mega fungo... Va bene... Wow... Vabbè... Meglio così... Ecco... Ecco... Ho finito il livello col mega fungo... Ho preso la moneta... La stella... Va bene... Ah... Adesso al secondo mondo... Adesso al secondo mondo... Cioè al secondo livello... Con... Ho vinto... Un livello acquatico... Che bello... Ah sì... Ce ne sono due di livelli acquatici... Nel mondo 8... S pro No... Apostolo Odiamo con strumento... Ma... Barrio... No... Rapporto... 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 c'è delle botti, sì, delle oh no questo livello lo odio quello con la lava che continua a salire non so se è presente no, no sì, che bello non ci ci riuscirò mai ah oh, dove devo andare? di qua? forse, boh sono riuscito che devo fare attenzione oh, no come faccio a prendere quella moneta stella? no 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 oh, no non pensavo cadesse che io sto failando alla grande questi cosi li odio questi cosi che lanciano le bombe li odio oh my god cos'è che c'è di là? cosa c'è? ah, lì oh, no ho ammazzato uno perfetto ok, game over yay vai, vai moneta stella, moneta stella ok e sono praticamente a fine livello che bello oh, Mario su Mario mamma mia no ok 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 perfetto allora controllo rapido sta registrando sta registrando yeah adesso muoio alla fine lo so ma va perché che devi credere in te stesso domenico tu ce la farai e vai sì e anche i fuochi d'artificio che bello adesso mi dovrebbe sbloccare tipo una casetta no 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 vediamo che casetta mi ha sbloccato mi ha sbloccato la casetta del magrafungo wow potrebbe anche tornarti utile perché no forse in un livello potrebbe tornarti abbastanza utile ok ok sono a livello della della torre ok io sono ancora al livello 6 ho completato solo un livello da quando abbiamo fatto abbiamo iniziato a registrare che non è una delle migliori cose che mi sta no non fermare sto giocando malissimo ok munita stella perfetto mi sa che se continuo di questo passo non riuscirò a battere Bowser in questo episodio ok ok vai ok come come ok non sto andando così male alla fine ultime parole famose ok finito livello yes ok finalmente finito livello non vedo l'ora di fare la seconda torre ed è ironico molto seconda torre ah è vero non l'ho ancora fatta la seconda torre perché c'è torre 1 castello e poi c'è una torre e poi c'è il castello finale è un po' un po' strano l'ordine guarda non vedo l'ora di arrivare al livello dove cadono tipo i meteoriti o qualcosa del genere ah sì fantastico oh no no yes ok oh no ti prego mi hai dato il fiore perfetto ok no sto andando troppo di fretta sto perdendo la concentrazione ok ok no 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 non facciamo stupidaggini stupidaggini ok sono maio normale senza potenziamento fantastico oh mancato per un pelo mmm ok su su ce la posso fare non è vero però vabbè ok non è così difficile fatto dopo per fingere il boss ok no muori oh mi sono completamente dimenticato che ho la riserva che stupido sono arrivi a allora su su simone ce la puoi fare forse fatto hai finito torre prima torre sì ok quindi mi stai recuperando alla grande oh comunque ho visto la stella che hai messo nello scorso episodio ed era una cosa bellissima già è una moneta stella vero? sì quello che mi hai chiesto mi sa che abbiamo qualche problema di connessione perché connessione skype mi dice che ci sono delle notifiche però non c'è nessuna notifica quindi mi sa che abbiamo qualche problema di connessione ok no qualche volta capita anche a me basta che tipo rientri in skype e clicchi da qualche parte random e poi funziona ma non ho capito tipo crashato qualcosa stavi dicendo? no che ho avuto anch'io quel problema di skype lì che mi dà delle notifiche anche quando non ci sono ma semplicemente vai su skype e tipo muovi il mouse attorno e funziona per qualche motivo oh no il livello delle anguille caballo yeee alla fine le anguille non cercano nemmeno di ucciderti cioè sono semplicemente lì nel loro habitat naturale non è che wow wow il blocco rosso mi ha appena dato una vita caballo che utilità stella no no fantastico ho già sconita stella credo no no salvati oh ho fatto un numero incredibile e sono morto ok no no non me ne importa niente no io devo prendere questa moneta stella è una questione di vita o di morte e l'ho presa fantastico ok ce n'era un'altra difficile ma non mi interessa dato che l'ho presa sì vabbè ma perché ti danno i power up se ci sta con l'anguille mamma mia come sto giocando male ok naranara naranara ok quindi se non sbaglio adesso sei quattro livelli indietro ok ok è una cosa incredibile dato che all'inizio di questo episodio eri tipo sette livelli indietro oh ho anche una vita ho preso la stessa della barri bravo mario wow yey mario ho fatto tutto lui ok forse no un livello al castello fantastico sei un livello al castello o no cosa diciamo il numero di moneta stella che avevo 51 51 io ne ho boh perché sono entrato adesso in un livello mi sembra che ne ho 60 qualcosa livello dei ragni livello dei ragni no no proprio no mai mai io odio i ragni è brutto ma poi tipo quei ragni lì hanno delle cose tipo dei degli stura lavandini sui delle ventose sui piedi quindi non hanno senso perché esistono non lo so allora dai dai no ma perché vai dammi un fiore sono colore ok sono super mario yey super mario uii sono sbaglio per prendere una stella in questo livello sono morto per prendere una stella in questo livello serve minimale c'è una tra le tre non mi ricordo è tipo un ok no che poi ha subito cominciano ad aprire ragni queste cose da fastidio no comunque una cosa che devo dire è che questo gioco rispetto agli altri della serie è forse quello che in cui mini mario è il più utile cioè nel senso ci sono molte più cose da fare in questo gioco con mini mario rispetto a che ne so eh sì tipo magari per prendere cose essenziali per andare avanti o semplicemente per accedere ai mondi segreti ok seconda torre no non è vero non sono ancora la seconda torre come non detto che poi la seconda torre te l'avevo già detto che era una cosa bellissima non vedo l'ora ok ultimo livello normale prima della torre del castello ed è quello con i meteoriti ovviamente che poi secondo me non è il livello più difficile non è il castello finale il livello più difficile è la seconda torre perché il castello finale alla fine voglio fare spoiler però è una cosa tipo di testa dove devi andare tre volte in un punto eccetera eccetera sì cioè ci vuole un pochino più di ingegno nel castello finale anche un pochino più ti confondo abbastanza ok no no ok moneta stella moneta stella no no almeno in questo castello è facile fortunatamente io adesso sto aspettando di sbagliare al posto di salvare tipo di fare un save state ne carico uno e tipo torno indietro me lo sto aspettando oh no meteoriti ok ok oh no non ho preso una moneta stella non ho preso una moneta stella no 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 avevo preso il checkpoint e poi ho fatto game over ok io ti giochi in questo punto con le tante volte per colpa dei triangoli almeno da bambino morivo sempre per questo poi adesso non sto morendo chissà come ma oh mamma mia mi stai preoccupando troppo no mmm bocca sana che poi a questo punto è il presidente infinito se la riserva ti metti la riserva e ti dà il fiori quindi si può si può fare 3000 volte a questo punto si si no mmm 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 boss facile perfetto schelobowser almeno credo sia questa la pronuncia yes schelobowser sei già schelobowser no non va bene sembra che lo sto facendo apposta di giocare male ma non è vero mhm allora ma secondo me con schelobowser cioè praticamente obbligatorio perdere un potenziamento perché altrimenti dovresti tipo aspettare che salti si si è un po' abbastanza noioso oh posso prendere questa no non la posso prendere what è l'ultima come 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 faccio ok se io salto se io salto tipo qualche moneta nei livelli finali credo di rifarle magari nel livello proprio nel castello dato che non sono così facili no no ok no no ok allora allora si voglio salvare salvato il tuo in corso comunque non sapete quanto ci ho messo a caricare l'ultimo episodio di cos'è trentaset trentacinque minuti mamma mia quanto ci hai messo scusa comunque se no no non ho un tempo preciso ma ho tipo lasciato il computer acceso per tutto il giorno tipo sono andato a farmi una passeggiata sono tornato non era ancora pronto scusa scusa se no no ma tanto anche questo episodio probabilmente sarà molto più lungo tipo 40 minuti se dura 40 minuti tipo facciamo lo divediamo in due episodi eh si facciamo finale parte 1 finale parte 2 perché si a questo punto facciamolo di 40 minuti tanto si allora quanto sta la mia registrazione 21 minuti si anche la mia wow è il primo episodio dove le nostre registrazioni hanno lo stesso lo stesso tempo ok vabbè prendo un'altra moneta ok allora no sto per lanciare fuori dalla finestra il 3ds che ho al mio fianco non so come manca questo livello tipo tutto di lava non è così difficile quello con le piattaforme si si ho presente si non è non è tra i più difficili diciamo su i meteoriti distruggete tutto please no vabbè no se facevamo un valtrugge versus 100% grandi successi ok primo livello di lava fatto ok devo solo finire il livello please mi mancano tre livelli per la torre no fantastico no non va bene tu non sei ancora no io sono al livello prima della torre ah wow no 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 wow wow un cordo mi sto arrabbiando abbastanza con me stesso perché sto giocando malissimo se muoio adesso sbatto la porta e non gioco più basta hai vinto il versus automaticamente come faccio prenderla questa questo qui è bellissimo perché se vai da una parte ritorni dall'altra tipo ah si è tipo il vecchio tipo stile mario bros si del vecchio super mario si si ok chi se ne f... no ah sembra che mi stanno assassinando molto leggermente qui c'è un riferimento qui c'è un riferimento qui c'è un riferimento qui c'è un riferimento al super mario dovrebbe essere ah ah no fa chiuuu ah su su meteoriti fate il vostro lavoro ok ok fatto devo solo finire il livello solo finire il livello scusa ti sto interrompendo interrompendo un sacco c'è questa cosa qua c'è questo trampolino che vi permette di prendere una vita no no fuck no 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 Più che altro è per le monete stella Che mi preoccupo Mi sa che ho mancato la moneta stella Mi tremano le gambe Non ce la faccio Simo mi si è Pagato il gioco Devo dirti che anche se vinco Questa ripresa Alla fine è stata una delle cose migliori che io abbia mai visto Alla fine è stata una delle cose migliori che io abbia mai visto Alla fine è stata una delle cose migliori che io abbia mai visto Alla fine è stata una delle cose migliori che io abbia mai visto